Ragazzi, che vi devo dire? Eh, io sono contento alla fine della partita, perché almeno si è andato in Europa League e la squadra ha giocato un affitto alla Champions con una vittoria, è già meglio di niente, cioè insomma il Milan almeno ha vinto il Newcastle, però ragazzi posso dire una cosa, caro AC Milan, ti sei fatto fuori da solo, e non col Dortmund, che vabbè capita di perdere 3-1 pur meritando la vittoria, Cioè tu hai perso in casa, sì, ma con una squadra che gioca la Champions da anni, hai pareggiato in trasferta con il Dortmund e lo stesso all'aggiornamento, rischiando di vincere nel finale con Ciucuese, che si è rifatto con il gol di Stasina, ma vabbè, poi chi ci sta non ricordo più, ah sì 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 sì, poi come cazzo è, mamma mia, sì sì, dicevo, scusatemi, scusatemi, tutto due gol li hai fatti in Champions League tra l'altro, in campionato non si è ancora sbloccato, ma in Champions League ne hai fatti già due, si vede che sei forte, non mi sono adattati al campionato, comunque, Un Milan che vince contro il Newcastle, ma che ha rimpianto di non essere passato agli ottavi, comunque, dicevo, tu hai rimpianto perché hai pareggiato con il Newcastle in casa, quando potevi vincere 2-0, o anche 1-0, pure Cortomuso, con 3 punti più alti 3, 6 punti, invece che 5, ne avresti avuti di punti, 2 in più, tu dici giustamente, però abbiamo perso 8 il PSG, 5 noi, E dici, con sto risultato, no, saresti arrivato, praticamente, come si chiama, cioè no, sei a 8 punti con sto risultato, scusami, non un 5, no, sbagliato, volevo dire, 8 punti noi, 8 punti il PSG, con altri 2 punti, tu arrivavi a 10, a meno 1 dalla prima, dalla vetta, Saresti passato come secondo a meno 1 dal Dortmund, ma ci stiamo rendendo conto, invece finisce a meno 3 dal Dortmund, con un'eliminazione, comunque, ragazzi, io dico solo, da una parte questo è il negativo, il positivo, la squadra ha avuto carattere, però, devo ammettere, ha reagito bene, A me è piaciuto molto Davidino Bartesaghi, caro Pioli, perché non lo fai giocare? Jovic, stai migliorando di volta in volta, come direbbe il seggente Hartman, bene, palla di lardo, congratulazioni, ce l'hai fatta, sei riuscito ufficialmente a entrare nei ranghi superiori, ma ricordati, ora devi mantenere sto risultato, forse abbiamo trovato qualcosa che sai fare, non a caso, l'assist del 2 a 1, mi pare che c'è stato proprio di Jovic, Comunque, adesso passiamo alle pagelle, Manian 8, il migliore della partita senza ombra di dubbio, Magic Mike, il migliore, maronna, mi vengono i belliti sapendo che te ne andrai l'anno prossimo, Pichiamoci a meno di Gregorio da quei soldi, alimentiamo i cugini, e vabbè, ma almeno avremmo, avremmo porca puttana, avremmo un, le, avremmo, scusate, diciamo, avremmo porca puttana un portiere italiano e all'altezza, Lui e Sportiello non sarebbero male, di Gregorio e Sportiello che è bella coppia, Migliano e Sportiello pure ottimo, ma lui ce ne andrà, quindi, Allora, dicevamo, Calabria, voto 5, sei stato comunque non buono stasera, Davide, come pure, come si chiama, come pure Teo Hernandez, stasera Teuccio, voto 5 pure per te, Tanto bravo sei stato, però si vede che sei compresso, forse a te ti posso dare 5 e mezzo, perché male non hai fatto, Tu mori, sei solo tu in difesa, oramai, sei più, cioè sei stato l'unico praticamente, non una sufficienza perché alla fine hai fatto ottimi interventi, Ma nulla di particolarmente, cioè, oddio, no, è sincero, il gol dell'1-0 all'inizio te l'hai evitato tu, quindi, vabbè, non sei più, va, 7 e più, sei stato bravissimo, fica io, comunque, Anche se comunque hai fatto interventi ottimi nel primo tempo, nel secondo più che altro hai limitato i danni, però, prima che facessimo il 2-1, Florenzi, voto un 6 meno, anche tu mi sei piaciuto alla fine, dai, quanto sei mancato rispetto all'anno scorso, Florenzi? Allora, poi, allora, centrocampo, Reindes, 5, stasera non bene, Tiziani, non bene, Loftus-Chick, 5 e mezzo, qualche cosa l'hai fatta, ma non benissimo, Musa, sei più, sei stato il migliore del centrocampo, secondo me, Yunus, Sei migliorando ogni volta in volta, Pulisic, per il gol è tutto 6 e mezzo, Maronna Christian, troppo il fenomeno hai fatto, devo dire la verità, durante la partita, però, caspito, anche tu sei miglioramento, da notare che stasera ci ha segnato tutta la fascia destra, è anche il sostituto, diciamo, Ciuqueze, voto per Ciuqueze 6 e mezzo pure tu, bravo Samuel, veramente bravo, è anche poco servito stasera, Leao, 5 e mezzo, non hai fatto benissimo, Giroud, voto... sincero, ragazzi, io non voglio essere cattivo, però un 5, non più di 5, non posso darti, Olivier, passiamo ai Pantinari, Ocafor senza voto, Giovic, 6 e mezzo, Stai migliorando, soldato palla di lardo, è probabile che potrò fare di te un grande pioniere del nostro esercito, non pioniere, un grande tiratore del nostro esercito, perché sei bravo, si vede, anche se comunque un attaccante forse avrebbe fatto altri, altri, diciamo, altri gol avrebbe fatto un attaccante. Comunque, Giovic, avrebbe stimenticato il gol nel finale, Luka Giovic, comunque, dicevamo, dove ero rimasto? Ah, sì, 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 dicevamo, ah, sì, 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 ah, diciamo, allora, dunque, forse mi bevo un altro po' di coca dopo, dicevo, se c'è, non mi ricordo manco io, comunque, dicevamo, che altro c'è, che non è che è entrato, ma no, Giovic ce l'ho detto, Ocafor l'ho detto, Ciuque ce l'ho detto, ah, Pobega, eh, Pobega, voto 5 e mezzo, qualche cosa in più degli altri, l'hai fatta? Stranamente, come Loftus Cic, un partita abbastanza anonima, però, insomma, qualcosa l'hai fatta. Pioli, sei meno, stasera per culo, non culo, per bravura dei tuoi hai vinto, e dice, perché gli metti solo sei meno? Perché stasera tu delle tue tattiche non c'entra niente, è la squadra che ha dimostrato forza della serie sotto 1-0, vabbè, non facciamo la figura dei ridicoli, vinciamola tanto mal che vada, e infatti è successo. Tutti quelli che dicono, non avete l'energia per gestire l'Europa League, ve la sognate? Non è così, il Milan deve gestire per l'Europa League. Poi com'è che hai detto, amico mio, un mio amico che cito in questo video, Corrado, come hai detto, scusa, se mai verrai sto video, come hai detto, hai detto, se non sbaglio, il Milan classica mosso dei bilanisti e napoletano, per pensare solo al campionato. Come hai detto, scusa, ah sì, ora siamo in Europa League, col cazzo bello mio, ne puntiamo all'Europa League, perché è inutile purtroppo puntare al resto dei trofei, cioè il campionato è andato, pensiamo alla Champions, poi chi ci sta? La Coppa Italia non è mai interessata a nessuno, quindi il Milan secondo me uscirà o perderà anche il numero migliore di vittorie che ha contro l'Inter, che è 10, l'unica cosa che c'è rimasta, perché in campionato loro hanno 11 derby di più, in credo 6-7, vabbè quel che cazzo è, in Supercoppa e in Champions League ci siamo fatti rimontare e siamo pari, in amichevoli siamo, vabbè noi ma è inutile, non contano, in Coppa Italia siamo 10-8 per il Milan, è capace che diventiamo 10-9 nel peggiore dei casi, 10-10, potrebbero addirittura rimontarci un altro anno, comunque c'è un unico vantaggio, dicevo, a meno che non vogliamo fare così, vi prego ragazzi, usciamo contro il Cagli, facciamoci eliminare, che tanto non abbiamo speranza di battere l'Inter in Coppa Italia, che è il loro territorio, comunque, pensiamo all'Europa League e alla Champions League, la qualificazione della Champions League e a vincere l'Europa League, in modo di andare in finale, io mi amico di casa Sergio e anche Vincenzo siamo rivali qua, è capace che ci incontriamo, comunque, vabbè ragazzi il video è finito, lasciate un like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima, sempre Forza Milan!